Esordio con il segno X per un gabice gradara privo di Arduini, Facondini, Ciavaglia e Ridolfi al cospetto di un compatto Bigor Castelfidardo ogni velleità tecnico-tattica passa in secondo piano a causa della copiosa pioggia che continua a scendere sul manto verde. Senza timore reverenziale i ragazzi di Mister Cangini, come lui stesso sottolinea, dinanzi ai numerosi tifosi mettono in campo una buona prova specie nei primi 45 minuti nei quali è mancato sostanzialmente solo il gol. Pronti via gabice gradara in maglia gialla, accendi i fari, rosso-blu al quindicesimo, la punizione di Costa che si infrange contro la Traversa, in qualche modo muratori centralmente per Sabatini, il suo sinistro non inquadra il 7. Versante opposto stuzzicano gli ospiti con Cerusico che carica il destro dal limite, disinnesca Palazzi. Binario di sinistra al 22esimo manovra adriatica con il cross di Rossi per l'inzucata di Cesaroni, Franzoni mette in angolo. Ancora al 25esimo padroni di casa Tebaldi per l'imbucata di Cesaroni, destro smorzato da Martino. Il 26esimo è la volta di Ferrani, parabola per Rossi cui colpo di testa non crea problemi all'uno ospite. I bianco-blu si propongono prima al 43esimo di un soffio manca, l'aggancio sottoporta Ortolani, poi con la lunga gittata di Maggi, in due tempi, Palazzi. Non c'è tempo di annoiarsi, Rossi di testa risponde Martino, mentre dalla parte opposta è Palazzi ad opporsi a Cervellini. Sul finale del primo tempo Muratori pesca Cesaroni, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poi la punizione ospite non viene sfruttata a dovere da Cerusico che apre troppo il compasso. Si riparte dalla ripresa meno vivace rispetto alla prima frazione con Igabic a gradare in percussione in aria bianco-blu, con il tocco di Martino i danni di Rossi che genera il calcio di rigore al 18esimo. L'attaccante adriatico prova a piazzare la sfera, ma il portiere ospite intuisce per tempo la traiettoria. È la volta del Vigor Castelfidardo che ha un'ottima chance di passare in vantaggio, ma la palla non c'entra il bersaglio. Nel finale la fiammata ancora ospite Gigli per Magi, constarsi in Mola. Allo Stadio Gimagi termina dunque sul risultato di 0-0 la sfida tra Igabice Gradara e Vigor Castelfidardo. Sono in compagnia del tecnico del Igabice Gradara Paolo Cangini, esordo bagnato quello di oggi, un campo difficile dato proprio dalla copiosa pioggia che è scesa. Quindi primo risultato per quanto riguarda il Gabice Gradara, un segno X, però una buona prova dei suoi, quella vista oggi in campo. Sì, hai detto bene. Infatti sono molto contento per la prestazione perché i ragazzi hanno creato situazioni importanti e hanno concesso pochissimo all'avversario, nonostante il campo che poteva capitare di commettere qualche piccola ingenuità, però sono stati bravi, ripeto, creando almeno, ricordo a mente, quattro palle gol più, diciamo, il rigore. Quindi sono stati bravi. Sono contento perché poi alla fine parlo sempre di prestazione e faccio i complimenti perché la prestazione l'hanno fatta sotto tutti i punti di vista, sotto il livello fisico, mentale. Il gioco era un po' così, bisognava interpretare la partita perché c'era il campo molto pesante e quindi il gioco era così, era un pochettino quello che passava di secondo piano perché poi si giocavano tutte su seconde palle, palle lunghe, però la concentrazione, la determinazione e l'aspetto fisico, secondo me, i ragazzi sono stati molto bravi. Sì, una compattenza che abbiamo visto in tutti i reparti, forse è mancato appunto solamente il gol, specialmente nel primo tempo dove abbiamo visto un gabice gradare veramente molto molto reattivo. Sì, abbiamo creato specialmente nel primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni importanti, è mancato quel pizzico di cattiveria, però io dico sempre anche ai ragazzi che l'importante è creare le situazioni, poi dopo verrà sicuramente anche il gol. Quindi sono cose, diciamo, degli episodi che possono chiaramente cambiare in positivo e in però, ripeto, sono stati bravi, sono contento. Dunque, soddisfatto e adesso uno sguardo alla prossima sfida, quella con i Villa Musone, comunque considerando comunque la buona prova di oggi, quindi un gabice gradare che comunque sa dire la propria anche sul campo. Sì, noi diciamo che l'obiettivo secondo me ce lo dovremmo porre strada facendo perché non abbiamo, diciamo, l'obiettivo sì primario è quello di fare un campionato tranquillo, però chiaramente andiamo avanti per la nostra strada, come dico sempre, cerchiamo di fare il nostro massimo sotto tutti i punti di vista, poi alla fine tireremo le somme. Adesso non si sa ancora quando giochiamo perché ancora la data la devono stillare, però sicuramente anche il Villa Musone è una squadra forte come quella squadra che abbiamo incontrato oggi perché tutti dicono che è una squadra che sarà lì nelle prime posizioni, che lotterà per l'inizio del campionato, quindi abbiamo giocato contro un'ottima squadra, è stato sicuramente un test importante. Adesso ci godiamo la settimana e poi comincieremo a pensare a Villa Musone. E poi ricordiamoci, come dice spesso lei, mister, il dodicesimo uomo in campo che anche oggi non è mancato, tribune piene nonostante fosse la prima giornata di campionato in casa, quindi grande risposta da parte del pubblico. Sì, no, infatti stavamo parlando prima delle spogliatoi che nonostante il tempo che era pessimo le tribune erano piene, anche se devo dire erano coperte, quindi sono stati diciamo all'asciuto, però quello che abbiamo a Gabice ce lo teniamo stretto che è il dodicesimo giocatore in campo, i tifosi che ci seguono, poi sono appassionati e ripeto per i giocatori è sempre un piacere avere il dodicesimo uomo in campo. Grazie mister. Ciao.